Rimaniamo nel mondo dell'istruzione, anche se questa volta si tratta di formazione accademica. Per dirvi che l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante, è alumnus dell'anno dell'Università Bocconi 2021. Il prestigioso riconoscimento conferito ogni anno dalla Bocconi Alumni Community a laureate o laureati dell'Ateneo milanese, che si siano particolarmente distinti nel corso della loro vita professionale e a darne ufficialità, è stata la stessa Bocconi, con un comunicato pubblicato questa mattina sul sito dell'Università. La Bocconi Alumni Community, presieduta da Silvia Candiani, CEO di Microsoft Italia, ha riconosciuto a Delfante sia il merito di aver trasformato Poste Italiane in un'eccellenza italiana, grazie alla velocità di innovazione, sia l'impegno per rendere efficace la campagna vaccinale durante l'emergenza da Covid-19, mettendo a disposizione la piattaforma digitale e la macchina logistica del gruppo. Ho questo riconoscimento, ha commentato Delfante, è per me motivo di grande orgoglio, l'Università Bocconi ha detto, è un fiore all'occhiello di Milano, costruito sul merito, merito che è fondamentale quando si ha qualche responsabilità in una funzione di interesse della collettività. La proclamazione di Matteo Delfante, alumnus dell'anno, è in programma il 22 di ottobre prossimo con una cerimonia nell'Ateneo milanese. E allora vi diamo anche conto di quanto è stato pubblicato questa mattina dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera Economia potete leggere un ampio servizio, un bellissimo servizio, come leggete, firmato da Andrea Ducci, laurea azienda, slide indoors di Matteo Delfante, CEO di poste italiane, nominato alumnus dell'anno Bocconi. Naturalmente viene ripercorsa la carriera universitaria del nostro amministratore delegato da quando nella seconda metà degli anni Ottanta Delfante era arrivato a Milano e la città correva, non si fermava. Si scrive appunto che l'Università Bocconi rappresentava, come del resto continua ad essere, un fiore all'occhiello di Milano costruito su valori di professionalità, intraprendenza, integrità e responsabilità e apertura. In una parola sul merito. È importante anche darvi conto della motivazione del premio che vengono evidenzati i passaggi più recenti dell'attività di Delfante, ovvero aver trasformato l'azienda che guida da quattro anni in una eccellenza italiana e l'impegno, andiamo a leggere insieme, per rendere efficace la campagna vaccinale durante l'emergenza da Covid-19. Interessante articolo anche per gli aneddoti che vengono ricordati e i consigli del professor Piero Barucci, quel consiglio che gli cambiò la carriera. Quindi noi vi consigliamo di leggerlo, così come per chi avesse perso la rassegna stampa del fine settimana di sabato e domenica. Ecco qui una bella foto del nostro amministratore delegato. Sono diversi gli articoli che richiamano il premio europeo assegnato appunto a poste italiane alla comunicazione finanziaria e al management dell'azienda da institutional investor a soli cinque anni dalla sua quotazione.